Abbiamo fatto diversi errori, soprattutto per quanto riguarda l'andare a presentare una semplice sola idea. Non è possibile andare a vendere qualcosa avendo in mano solo un'idea, bisogna avere qualcosa di più concreto. Siamo partiti da un prototipo e già questo prototipo non è stato sufficiente, ne abbiamo fatto un altro e siamo andati a proporre questo oggetto, questo sistema e da lì allora l'attività ha potuto iniziare col piede giusto.